Abbiamo 2 tipi di farine, il cacao in porvere, una bustina di lievito, se potete è un lievito bio e poi abbiamo del latte di riso, olio di oliva, olio di mais, succo di mela, peperoncino ovviamente, e lo zucchero e lo zucchero, se potete è un lievito bio e poi abbiamo il latte di riso, se potete è un lievito bio e poi abbiamo Grazie per la visione! 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 Grazie! 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 Grazie!